Aspetta, 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 ok, adesso preparate i cuori, stringeteli a voi, entristateli, pensate alle case più brutte di questa vita, tipo noi, tirateli fuori perché per passare certi periodi bisogna anche affrontare certe cose, riviverle, ripassarle e poi chiuderle. Adesso facciamone un attimo, quindi raffristatevi questi 5 minuti e poi concedetevi la speranza. Grazie a tutti! 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 terrazzo non dili giungato Svegliamo, provate voi. Pocche emozioni, rilassate, non state presentando un disco. Pocche emozioni, rilassate, non state presentando un disco. Pocche emozioni, rilassate, non state presentando un disco. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti